Benvenuti da Claudio Brachiro a questa nuova puntata di USA24, lo leggo all'italiana, insomma il nuovo format dell'agenzia di stampa Italpress per seguire le elezioni presidenziali americane e precisamente le primarie sia del Partito Repubblicano sia del Partito Democratico. Come detto nella puntata che abbiamo fatto pochi giorni fa, si è votato nel fine settimana in Sud Carolina, lo dico anche qui all'italiana, South Carolina ha detto all'americana e insomma c'era molta attesa non tanto per la vittoria di Trump scontata, ma di quanto avrebbe vinto Trump rispetto alla sua diretta rivale nel Partito Repubblicano in questo momento che è Niki Alei. Allora ci colleghiamo con il nostro corrispondente da New York, precisamente dal Palazzo dell'ONU Stefano Vaccara, com'è andata allora? Lo sappiamo già, però diciamo a te l'analisi del voto. Bene, l'analisi del voto è che i sondaggi non ci hanno azzeccato per circa 10 punti, cioè ha vinto Trump, come ha detto bene, però mentre i sondaggi davano che avrebbe schiacciato di oltre 30 punti la ex governatrice nel suo Stato, Nicheli, invece alla fine è finita che praticamente i punti sono 20 punti, che è sempre una vittoria con un larghissimo margine, però non è quella che avrebbe sperato Trump perché diciamo che effettivamente se fosse stata così larga nel suo Stato sarebbe stato veramente difficile fare il discorso che invece poi ha fatto Nicheli, cioè lei ha fatto un discorso dove ha detto guardate che circa il 40%, perché lei ha preso 39,5%, il 40% nelle primarie repubblicane sono una forza, non sono una piccola minoranza. E là ha ragione, perché se Trump non riuscisse poi una volta presi i delegati, la maggioranza dei delegati, a convincere quelli che votavano comunque a votare poi per lui a novembre, lui non è spacciato, non può vincere. Quindi è una situazione dove Trump è vincente, però il coltello dalla parte del manico in questo momento ce l'ha Eli, perché se lei continua a fare queste performance, ovviamente è molto più difficile farle adesso in altri Stati, ne parleremo, può combinare grossi guai alla campagna di Trump. Ecco, allora noi nella puntata precedente un po' l'abbiamo azzeccato, abbiamo parlato delle luci e ombre sia nel Partito Democratico, l'età di Biden, sia nel punto dentro il Partito Repubblicano. Ma prima di parlare delle prossime tappe, analizziamo ancora un po' quello che succede nella compagine della sfidante di Trump, che ha detto, mi rendo conto, poi io ho letto dei giornali italiani, poi magari tu mi potrai correggere, 40, sono una contabile anche, quindi 40 non è 50 ma appunto è tanto, come tu hai detto, e nello stesso tempo questo 40 vuol dire che c'è una parte del Partito Repubblicano, i cosiddetti moderati, quelli che non si riconoscono negli estremismi di Trump, che non sono disposti a votare appunto Donald. Però abbiamo letto sui giornali italiani, c'è la Corriere della Sera se non sbaglio, che comunque in pezzettini del suo establishment, almeno economico, di quelli che sovvenzionano, come si dice, si sono già staccati da nicchiale, è vero? Sì, è vero, c'è poi la notizia più importante, ce n'è uno, uno tra i più importanti di questi fondi che la aiutava, che ha deciso di spostare i soldi praticamente sui candidati al congresso, perché ricordiamoci che a novembre ci sono le elezioni pure al congresso, non solo presidenziali, indicando quindi che non punta più sulle possibilità di Eli. Però Eli, e questo è importante, ha sfondi a sufficienza, che si è calcolato, è vero che quindi sono diminuiti, però lei in saccoccia, diciamo così, ha ancora dei soldi sufficienti a farla stare sicuramente per il super martedì, che è il 5 marzo, quindi quello che è già lì, restare fino a quel momento e anche se in politica tu sai benissimo che una settimana può valere tantissimo, può danneggiare tantissimo, perché Trump voleva evitare proprio questo, perché? Perché 16 stati, lo ripeto, il super martedì si vota in 16 stati, quei 16 stati se vedono prima delle elezioni come farà e ce li ha i soldi per farlo. Eli che gira come una trottola, va a fare i comizi, spende soprattutto soldi nei tables, nelle pubblicità e quindi convince almeno una buona fetta di repubblicani andare a votare per lei, sarà complicato poi dopo che hanno votato Eli con quello che Eli finalmente dice di Trump, perché prima non lo diceva, può riuscire a confingere questi stessi repubblicani a novembre a votare per Trump. Non so se mi sono riuscito. No, no, sei stato chiarissimo e allora facciamo un po' un diario invece concreto che riguarda poi anche i nostri prossimi appuntamenti, perché c'è proprio prima del super martedì, lo traduciamo l'italiano che è martedì 5 marzo, cosa succede prima? Si vota? Allora, prima succede che domani c'è un importantissimo appuntamento, domani martedì, ed è in Michigan. Ora, questa volta di nuovo democratici e repubblicani sono primarie per tutte e due, per i repubblicani c'è un po' complicato da spiegare, comunque c'è un secondo appuntamento pochi giorni dopo di convention, quindi delegati repubblicani in Michigan vengono distribuiti in due modi, le primarie e poi una parte di più candidati, perché il partito ha più controllo, diciamo, vuole più il controllo con dei delegati che si riuniscono in una convention per scegliere. Mentre i democratici, questo è interessante domani, non tanto per i repubblicani, Trump vincerà e non ci sarà storia, più per i democratici e vi spiego subito. Biden, prima di tutto, il Michigan è uno stato importantissimo. Diciamo che il Michigan è importantissimo perché è uno dei famosi swing state, quelli altanelanti, una volta vanno i repubblicani, una volta vanno i democratici, ma soprattutto è fatale per quelle a novembre. Senza il Michigan, di solito le statistiche dicono, non si vince la presidenza. Allora, bisogna far bene in Michigan. Bene, Biden nelle primarie, è vero, vincerà per carità, non è che c'è problema, però ha un grossissimo problema in Michigan. Michigan è lo stato di tutta l'Unione, di tutti gli Stati Uniti, dove c'è una comunità musulmana enorme, soprattutto nell'area di Durban, che è la seconda città più importante dopo Detroit. Queste comunità non è solo araba, musulmana, è a protesta e protesta da tre mesi circa la politica degli Stati Uniti, dell'amministrazione Biden nei confronti della crisi del conflitto a Gaza. Ora, non è che questi pretendono che Biden di colpo, non so, insomma, scomunichi Israele. Però ritengono che è stata troppo squilibrata e hanno deciso con i loro leader, ufficialmente lo hanno dichiarato, hanno fatto comizi, di non votare per Biden. Cioè stanno dicendo, siccome la maggioranza, questa comunità è a maggioranza democratica, ed è stata quella che è riuscita, con i suoi numeri, a far vincere Biden la scorsa elezione nel Michigan, ora ha deciso che non farà votare Biden. Farà votare Phillips, l'unico che è un congressman, che non piglia più del 2%, che è l'unica alternativa? No! Farà votare uncommitted, che non so se si spiega, significa tra indeciso... C'è che significa che se abbastanza uncommitted prendono il voto, questi saranno delegati che andranno alla convention, ma ci andranno liberi, capisci? Cioè di essere... Ti voglio chiedere due cose, abbiamo cinque minuti, in realtà te ne voglio chiedere tre. Una, se ci dici perché questa comunità musulmana rispetto a quattro anni fa ha deciso, diciamo, di essere, come hai detto tu, uncommitted, cioè anziché dare il voto a Biden, è relativo alla politica estera di Biden in Medio Oriente recentemente? Sì, sì, sì. Oppure, e la seconda cosa che ti chiedo, cominciamo a dare delle notizie anche al pubblico italiano, come funziona un po' la legge elettorale americana, così ci abituiamo rispetto all'idea che ogni Stato ha dei cosiddetti grandi elettori, che poi tutti messi insieme fanno la maggioranza di quelli che fanno il Presidente degli Stati Uniti, perché bisogna spiegarlo un po' questo, no? Sì, allora, prima di tutto alla prima domanda è proprio la politica estera, che di solito conta pochissimo nelle elezioni americane, e invece in questo caso, perché appunto gli elettori, insomma, quello che sta avvenendo a Gaza, 30.000 morti tra i civili, e Biden appare molto molto debole, c'è la famosa richiesta di, qui, questo palazzo dell'ONU dove mi trovo, di cessati il fuoco, gli Stati Uniti hanno messo già tre veto, ecco, c'è una richiesta specifica, gli Stati Uniti devono smettere di impedire all'ONU di imporre il cessato il fuoco a Gaza. E questa lobby, chiamiamo così, musulmana o arabo-americana, ma non solo araba, che sta in Michigan, pensa che sono così forti che al Congresso, per esempio, hanno una deputata proprio lì, che tra l'altro è di origine palestinese, e chiede a Biden e alla sua amministrazione di cambiare politica. Quindi questa è una. Per quanto riguarda la tua seconda domanda, quella è molto più complicata, però rispondo, provo a rispondere e farlo capire subito con questo. Gli Stati Uniti, ricordiamoci, sono uno Stato federale, federale, cioè, ma veramente federale, non un federalismo alla camomilla, è un federalismo molto forte. Nel federalismo, quello che è importante, ogni Stato vuole preservare in tantissime cose, non solo nelle elezioni, il proprio controllo. In più, nel federalismo si deve anche usare degli equilibri. Perché? Perché se fosse tutto in maniera, no, in percentuale esatta alle popolazioni, insomma, alla grandezza degli Stati, molti Stati piccoli sarebbero schiacciati, cioè, per le elezioni, quando per esempio sono elezioni presidenziali. Faccio un esempio per capire. Al Senato degli Stati Uniti ci sono 100 senatori, gli Stati sono 50, ogni Stato ne manda due. Ora, la California, che è uno Stato enorme, o il Texas, tantissimi abitanti, mandano gli stessi numero di senatori del Rhode Island, piccolissimo Stato, tra l'altro qua vicino a New York, ma che ha dentro il Senato degli Stati Uniti la stessa forza. Questo, in un certo senso, in maniera diversa, deve avvenire anche per le elezioni presidenziali. Quindi ogni Stato ha dei, ovviamente c'è un equilibrio, quindi gli Stati più importanti, cioè California, New York e così via, hanno un peso più grande, però senza anche quei 10-5 elettori, grandi elettori cosiddetti, che arrivano dagli Stati più piccoli, non si vince la presidenza. No, ma certo, poi noi abbiamo il tempo, in questo lungo percorso che faremo, di spiegarlo bene, ma siccome poi quando arriva la famosa notte del voto e il pubblico vede, sì, vede il rosso, il azzurro, le caselle, ma poi non capisce, non capisce bene questo meccanismo dei grandi elettori, noi cominciamo a farlo adesso, così quando arriviamo a ridosso, arriviamo alla notte del 6 novembre, che anche noi, insomma, lo annunciamo già, faremo una diretta su tutti i canali e a disposizione di Italpress, probabilmente, se mi accetterai verrò anche lì a New York, probabilmente, insomma, se vediamo, se mi vorrai, se c'è un posto lì. Come no, saremo, magari useremo una stanza più grande di questa, sempre dentro l'ONU, ma faremo la nottata, che poi sarà la mattinata in Italia. Mi piacerebbe molto, però in attesa di quello, insomma, cominciamo a spiegarlo. Senti, ti faccio un'ultima domanda, che è questa, abbiamo detto sui giornali, qualcuno ci ha fatto anche il titolo, che Trump già dice e pregusta quello che può dire, appunto, quella mattina lì, insomma, di novembre, a Biden, tu sei licenziato, you are fired, che se non sbaglio riportano i quotidiani italiani e la frase, anche di un format che poi ha trasmesso la televisione italiana riadattato, no? The Apprentice, cioè quindi praticamente il format che ha reso famoso Trump, con format televisivo, una sorta di reality sull'imprenditoria, non reality come i nostri, quelli classici, nelle case o sulle spiagge, insomma, o sugli amori. Giusto? You are fired, tu sarai licenziato, è così o no? Eh sì, quello è quello che spera Trump, la cosiddetta rivincita o vendetta, forse, per la terminologia. È possibile? Tutto è possibile. Preparatevi nei prossimi mesi alle montagne russe in America, cioè, però ricordiamoci anche un'altra cosa, gli ultimi sondaggi, cioè per tornare nella realtà, gli ultimi sondaggi danno Biden e Trump equivalenti, cioè non è che Trump, sì, nello stato proprio del Michigan, dove si vota domani per le primarie, lui avrebbe quattro punti in più, quindi è in testa, però poi magari si passa in un altro Stato ed è Biden in testa. Però attenzione, Trump per vincere a novembre e dire fire, you are fired a Biden, deve uscire, cioè deve riuscire ad acchiappare anche quegli elettori fuori dal MAGA, fuori dallo zoccolo duro dei repubblicani. Quando per ora è uno landslide, così chiamato, una valanga dove vince ovunque per le primarie, lui però, e si è visto in South Carolina, non riesce ancora a sfondare quelli che sono appunto più moderati o comunque non sono MAGA, make America great again. Senza riuscire ad andare oltre quel voto, lui a novembre Biden on Biden, cioè se ci sarà Biden o no, contro di lui, lui perde, perché non ci sono i voti. Cioè lui, diciamo, voglio fare buona battuta, viene accusato di essere populista, no? Come accusa, poi qualcuno può anche piacere il populismo. Direi che secondo le caratteristiche della definizione di populismo ci sta come definizione. Ci sta, però lui è un per ora, almeno negli Stati Uniti, è un populista senza il popolo, nel senso, senza la maggioranza del popolo, perché sì, ha tanti voti, per carità, ma per vincere una nomination, non ancora per vincere a novembre. Dove che gli mancano? Soprattutto dove che gli mancano? Tra le donne e i giovani. Però, proprio questa è notizia di queste ore, sembrerebbe che tra i giovani sta cominciando a recuperare. Cioè, rispetto alle... Biden è molto in testa, però rispetto, per esempio, anni fa, quando Biden lo schiacciava sul voto dei giovani, lui piano piano si sta riprendendo. Voi vi accorgerete, e questo lo vedremo dopo che lui si assicura la... e concludo, che si assicura la nomination, vi accorgerete che Trump di colpo, dal rumoroso che ci ha abituato, dalle sue grandi, diventerà un Trump molto più moderato, altrimenti non ha speranze di vincere. Questo mi sembra un'ottima analisi anche finale, che come sempre accompagna questo nostro format, che è fatto di curiosità, che è fatto di dati e che è fatto anche di lettura sociologica degli Stati Uniti che si avviano in questo anno al voto. Allora, facciamo così, diamo l'appuntamento in diretta, visto che si vota domani in Michigan, ci rivediamo dopo domani o ci rivediamo anche dopo la riunione dei delegati repubblicani in Michigan? Allora, secondo me è più interessante dopo domani perché se Biden con gli ACOMIT prende veramente una batosta, cioè se questi percentuali di voto di protesta fosse veramente alta, effettivamente sarebbe una notizia molto importante che potrebbe effettivamente cambiare anche la politica estera americana. Allora, appuntamento fra 48 ore esatte, mercoledì, ci rivediamo e andiamo avanti su questo nostro racconto con qualche dato in più che ci farà capire in attesa del super martedì 5 marzo che cosa sta davvero accadendo. Grazie a Stefano Vaccara collegato in diretta con noi dall'ONU da New York. Grazie Stefano e ci rivediamo. Arrivederci, grazie a voi. Fra due giorni, grazie a voi che ci avete seguito, insomma lo ridico per l'ennesima volta, appuntamento con USA24, mercoledì, insomma, e parliamo dell'Italia, qui facciamo confusione oramai, insomma, mercoledì 28 febbraio, faremo la nostra nuova puntata del nuovo format che segue il racconto appassionante, devo dire, delle presidenziali americane. Arrivederci.